E non credere che la conoscenza delle arti magiche o l'immortalità siano un dono. Passati i primi mille anni, tutto sembra ripetersi come uno spettacolo. Sera dopo sera, mese dopo mese, potrei dirti esattamente cosa succederà. Grazie per la visione! Grazie per la visione! E tu vorresti diventare così? Grazie per la visione!